Siamo alla domanda 235 del Catechismo di San Pio X. Che cos'è la tradizione? È una grande questione questa qui. Risposta semplice e breve che taglia la testa al toro. La tradizione è l'insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli fatto a viva voce e dalla Chiesa trasmesso fino a noi senza alterazione. Semplicissimo, no? Su questa questione invece si scannano veramente tanti teologi la tradizione. C'è qualcuno che dice che tradizione è cambiare tutte le carte in tavola, riformulare il credo. C'è gente che riformula il credo a modo proprio diversamente da quello che la Chiesa ha insegnato e per cui martiri ci sono stati che hanno dato la vita pur di non cambiare una parolina del credo e adesso te lo cambiano completamente tutto e dicono credo nell'uomo con gli scarponi e via di cose veramente che fanno ridere i poli. Ormai i preti, tanti, non hanno più neanche il senso del ridicolo. Il capo dei Gesuiti un giorno, non mi ricordo come si chiama uno con i baffi, così un uomo che sembra un po', con questi baffi sembrava tutto tranne che un prete, dice ah ma ai tempi di Cristo non c'era il registratore quindi non lo sappiamo. Sbagliato! Lo sappiamo, lo sappiamo per tradizione. La tradizione della tradizione fa parte anche i testi che ci sono stati tramandati, tramandare in latino si dice tradere, tradizione, che ci sono stati tramandati. Poi ci sono i linguisti, ci sono i filologi che ci andranno a dire questo è un testo credibile perché storicamente valido e un altro è stato alterato dagli gnostici che è troppo tardo, è venuto 300 anni dopo Cristo quindi non ha valore. E quindi attenzione, non c'entra niente i registratori, c'erano i registratori, erano le persone che ascoltavano e trascrivevano e le persone più vicine, più vicine a Gesù che l'hanno ascoltato dalla sua viva voce, che hanno ascoltato dalla viva voce gli stessi apostoli sono i nostri registratori, diciamo così, che hanno registrato per iscritto quello che ci volevano trasmettere. Questa tradizione che si è cristallizzata nella Bibbia ma anche nella liturgia, in certi modi di pregare, in certi modi di strutturare la vita della Chiesa, che si sono piano piano, all'inizio ad esempio c'erano quasi tutti, anche gli apostoli erano sposati, però non dimentichiamo che anche San Pietro lascia la moglie, diciamo così, non usa più del matrimonio dal momento che si mette a seguire Gesù Cristo. San Giovanni invece è un'altra vocazione, era vergine e conserva la sua verginità e ci sono diverse tradizioni anche nella Chiesa, nella Chiesa orientale, nella Chiesa occidentale, nella Chiesa orientale ci sono uomini sposati che diventano sacerdoti, tuttavia le posizioni di responsabilità all'interno della Chiesa sono conservate solamente dai monaci, quelli che non sono sposati e quindi anche lì c'è una gerarchia di responsabilità, di valore della stessa vocazione e di, se vogliamo, anche di santità e questo non vuol dire che uno che non si sposa sia più santo, può essere uno sciagurato e uno che si sposa può essere cento volte più santo, non è quello, ma sono funzioni e vocazioni diverse, tutte chiamate alla santità all'interno della Chiesa e queste sono cose che via via si sono cristallizzate, vuol dire all'inizio era tutto un po' così immobile, poi a un certo punto la Chiesa ha dato, proprio perché c'erano gli eretici, c'erano tante confusioni, ha cominciato a dare delle regole, queste regole si sono, diciamo così, cristallizzate, fermate ebbene quello si chiama tradizione. La tradizione però, facciamo bene attenzione, non è un monolite, non è un'unica pietra, un blocco, è così, sarà così, sarà sempre così. No, nella Chiesa c'è un continuo riscoprire, rispiegare la stessa fede con parole nuove comprensibili agli uomini dei tempi moderni. Tuttavia, come sappiamo, poiché c'è ancora il diavolo che opera anche dentro la Chiesa, ci sono quelli che dicono noi usiamo nuove parole e ci dicono il contrario di quello che dicevano prima. Un solo esempio, il matrimonio è solamente fra un uomo e una donna che diventa sacramento. Qualcuno viene a dirci, e nella Bibbia c'è la condanna assoluta di qualunque altro tipo di pratica contro la volontà di Dio e che grida vendetta al cospetto di Dio. Leggete il Catechismo di San Pio X, cos'è il peccato? Che grida vendetta al cospetto di Dio, che è il peccato contro natura. Qualcuno ci viene a dire all'interno della Chiesa stessa, dei teologi, no, no, ma quello era solamente una cosa culturale del tempo, ma adesso invece si può fare anche il matrimonio anche tra due uomini o fra due donne. No, questo è contrario, non solamente alla Bibbia, ma è contrario alla tradizione in peritura e sempre uguale per duemila anni. Quindi non è che tu hai capito tutto per duemila anni, miliardi di cattolici non hanno capito niente. No, probabilmente, anzi, certamente sei tu che non capisci niente e che stai mettendo le tue basse passioni a servizio, o metti la teologia a servizio delle tue basse passioni. E quindi, no, da parte queste cose qua. Dobbiamo conservare non solamente la Bibbia, ma anche la tradizione, cioè l'insegnamento di Cristo e degli Apostoli, così come la Chiesa ce l'ha tramandato, senza cambiare una virgola. Allora, la tradizione, in fin dei conti, che cos'è? È ciò che Cristo ha insegnato e gli Apostoli hanno insegnato, trasmesso, tradere, tradizione, dalla Chiesa. Quando siamo sicuri che è tradizione? Quando non è cambiata la sostanza. Allora, ad esempio, un bambino è bambino sin dal concepimento che è una sola cellula fino a quando era un vecchio con il bastone o sulla carrozzina, rotelle. Ma è sempre lui, la sua identità, la sostanza è sempre quella. La stessa cosa, che cos'è? Fede della Chiesa, cos'è tradizione della Chiesa? È ciò che è sempre uguale, sia pur nel variare dei modi di espressione. Quindi dobbiamo fare molto attenzione a quelli che dicono è cambiato il modo ma la fede è la stessa e in realtà ci stanno presentando un'altra cosa. Ad esempio, se dicono questo è un bambino e tu vedi uno che va a quattro zampi, che ha la coda e le corna, dici no, quello non è un bambino, quello è un bue oppure un altro animale. E la stessa cosa con la dottrina della Chiesa, con l'insegnamento della Chiesa, con la tradizione della Chiesa, se ti presentano una cosa che è diametralmente l'opposto di quello che è sempre stato, certamente non è tradizione della Chiesa e quindi alla larga, perché la tradizione, quello che ci è stato trasmesso, ci porta alla salvezza. Che cos'è la tradizione? La tradizione è è l'insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli, fatto a viva voce e dalla Chiesa trasmesso fino a noi senza alterazione. Grazie.